Musica Le 20.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000. In apertura le dimissioni del presidente dello Zimbabwe, Mugabe, era la guida del paese da 37 anni. Decisione volontaria che nasce dalla mia preoccupazione e per il bene del popolo. Ha scritto in una lettera, il servizio di Antonio Soviero. Arara è capitale dello Zimbabwe. All'annuncio delle dimissioni del tiranno esplode la gioia per le strade. Non posso credere che se ne sia andato. Sono felice, sono molto felice, urla questa giovane donna. Non sappiamo cosa dire, siamo travolte dalla gioia, dicono queste due. Alla fine il vecchio leone si è arreso. Robert Mugabe, ex eroe dell'indipendenza, da 37 anni, padre padrone dello Zimbabwe, si è dimesso. Lo annuncia lo speaker del Parlamento, che ha letto una lettera dell'anziano leader. Subito dopo viene sospesa la procedura per l'impeachment di Mugabe, avviata dal suo partito con l'appoggio dell'opposizione. Il leader 93enne era accusato di aver provato a passare la testimone alla sua seconda moglie Grace e di essere troppo vecchio per governare. Entro 48 ore il potere passerà fino alle elezioni, nelle mani del suo storico delfino Emerson Mlangagwa, vicepresidente dello Zimbabwe, recentemente silurato dallo stesso Mugabe. Poco fa il colpo di scena che porterà, lo speriamo, ad una stagione di riforme necessarie in Zimbabwe. Il paese vive una catastrofica crisi economica, con la disoccupazione al 90% e l'80% della popolazione al di sotto della soglia di povertà. Entriamo in Italia con il duro braccio di ferro tra governo e CGL sul nodo pensioni, sindacati divisi sulla proposta del governo che apre ai giovani e alle donne. Critica Susanna Camuso che annuncia una mobilitazione per il prossimo 2 di dicembre. Augusto Cantelli. Requisiti più ampi per donne con figli, impegno per i giovani e inserimento dei siderurgici nelle categorie dei lavori faticosi. Le ultime novità portate dal governo in tema di pensioni tuttavia non sono state sufficienti per convincere tutte le sigle sindacali. Se la CIS ha detto sì, la UIL ha manifestato una posizione più articolata, mentre una sonora bocciatura al piano del governo per bloccare l'inalzamento dell'età di pensionamento a 67 anni arriva dalla CGL che annuncia una prima mobilitazione per il 2 dicembre. Abbiamo annunciato una prima mobilitazione che si terrà il 2 dicembre, saranno alcune grandi manifestazioni interregionali anche perché i giorni che abbiamo a disposizione sono gran corsa per riuscire ad avere una buona mobilitazione. Da parte sua il governo presenterà le misure sulla previdenza contenute nel documento presentato ai sindacati come emendamento alla legge di bilancio. Si sia fatto un lavoro importante in queste settimane con la predisposizione di una serie di proposte. A differenza della CGL, sia la CIS sia la UIL in sostanza danno via libera alla proposta del governo che prevede lo stop all'aumento dell'età di pensionamento per 15 categorie di lavori faticosi e usuranti. Anche quest'anno, in questo modo, dentro la legge finanziaria, noi potremmo trovare circa 300 milioni a favore degli uomini e delle donne del lavoro anche in campo previdenziale. Se ci fossimo spaccati alla prima riunione non avremmo avuto 5 punte aggiuntivi che abbiamo nelle due riunioni successive conquistato. Agitazione anche fra i tassisti oggi con il servizio sospeso in tutta Italia fino alle 22 e una manifestazione nazionale che si è svolta a Roma, uno sciopero confermato da tutte le sigle sindacali dopo che l'incontro svoltosi ieri al Ministero dei Trasporti non è andato a buon fine. Di fatto le proposte del governo di riforma del settore attraverso la liberalizzazione dei noleggi con conducente, una mossa che va a tutto vantaggio di Uber, protestano contro questo i sindacati di categoria che chiedono dunque regole certe e che il settore venga riformato in maniera equa. Disagio in tutta Italia, in particolare l'aeroporto di Fiumicino dove i passeggeri in arrivo sono stati indirizzati verso le fermate dei bus. E ci spostiamo adesso nelle zone del centro Italia colpite dal sisma perché oggi si è riunita la consulta dei vescovi delle diocesi interessate. L'incontro ha confermato che le diocesi in relazione ai lavori di ricostruzione delle chiese diventano enti attuatori alla pari degli enti pubblici, avranno quindi competenze proprie e il vincolo di appaltare i lavori. Luigi Faraiua. Le diocesi potranno ricostruire le chiese terremotate direttamente avviando procedure negoziate per aprire i cantieri ormai fermi da tempo o mai partiti. È una delle certezze emerse dall'incontro della consulta delle diocesi colpite dal sisma del 2016 con il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli. L'altra importante novità è che oltre al già previsto miliardo e 200 milioni di euro per le zone terremotate, il governo ha assicurato nel bilancio un altro miliardo di euro. In questo modo i lavori per la ricostruzione di chiese ed edifici sacri fino a 5 milioni e 200 mila euro potranno finalmente ripartire in maniera responsabile ed efficace sotto la responsabilità delle diocesi. Così facendo, ha assicurato il commissario, otterremo da un lato una maggiore responsabilità e un maggior coinvolgimento dei territori e ci assicureremo infine maggiore fiducia e velocità nella ricostruzione. Monica ci porta a Torino per raccontarvi di un sorpasso azzardato che ha scatenato il panico per strada con colpi di pistola come da far west, un episodio di violenza inaudita che purtroppo non è isolato. Federico Plotti Un sorpasso azzardato, due automobilisti che iniziano a litigare a distanza, ognuno nella propria automobile. Si rincorrono per un po' ma poi, quando tutto sembra finito, uno dei due tira fuori un'arma e comincia a sparare. Un colpo di pistola finisce dritto sul vetro di una delle due auto, mandandolo in frantumi, ma fortunatamente senza conseguenze per il conducente. Una scena da far west avvenuta in pieno giorno a San Giglio, in provincia di Torino, sulla strada provinciale numero 8. I fatti risalgono a sabato scorso, ma dell'inquietante vicenda si è saputo solo oggi quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Veneria Reale, su segnalazione del proprietario dell'auto colpita dal proiettile, hanno individuato l'aggressore, un ex guardia giurata, residente a Givoletto, piccolo paese del torinese. Nella sua abitazione hanno scoperto un vero e proprio arsenale, composto da armi clandestine, molte delle quali modificate, prive del sigillo di controllo del Banco Armi Nazionale. Che cosa sia scattato nella sua testa sabato scorso solo lui lo sa e adesso dovrà spiegarla ai carabinieri che lo hanno arrestato con l'accusa di detenzione di armi clandestine, porto di armi e oggetti atti a offendere, fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e danneggiamento. Indicativo di due cose. Uno del bisogno di una violenza espressiva non inibita, non filtrata dallo spettatore, dal contesto, oggi nelle strade, per una banale lite al semaforo, si può trascendere e arrivare fino a queste conseguenze estreme. L'altro elemento è, da quello che dicono le cronache, un feticismo per le armi, per questa forza di suggestione che ha l'oggetto, l'oggetto atto ad offendere, come si suol dire, al punto che veniva manipolato, sembrerebbe modificato e quindi diventa una sorta di oggetto onanistico con cui questa persona, non sappiamo quanto frustrata o soddisfatta del proprio lavoro, riscattava la sua immagine a se stesso. E' stato rubato nella Francia Meridionale un quadro dal valore inestimabile del pittore italiano Giorgio Rechirico, composizione con autoritratto, questo il titolo dell'opera realizzata dall'artista nel 1926 e conservata fino a qualche giorno fa nel Museo di Belle Arti di Bézière. Il furto risale a giovedì scorso, sul posto i custodi del museo hanno trovato solo la cornice vuota, la tela potrebbe essere stata rimossa con un taglierino in assenza di videosorveglianza. Trovare i responsabili evidentemente non sarà affatto facile. Cambiamo argomento, manca meno di una settimana al prossimo viaggio di Papa Francesco in Myanmar e Bangladesh. Per noi in Myanmar è arrivato Vittore Torre che ci racconta quale situazione troverà Bergoglio nel paese, una situazione delicata e conflittuale e ci racconta anche qual è l'attesa dei giovani cattolici. Lungo le strade principali di Yangon ci sono già i cartelli di benvenuto a Papa Francesco. Nonostante la comunità cattolica sia appena l'1% della popolazione, c'è grande attesa attorno a questa visita. Il paese che il Papa incontrerà tra pochi giorni sente ancora il peso di un regime militare che occupa tuttora i posti chiave del potere. Il premio Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi ha un ruolo di semplice consigliera di Stato nonostante il suo partito abbia vinto le elezioni. E poi c'è la questione spinosa del dialogo interreligioso. Nel Myanmar, a maggioranza buddista, sono vietati per legge i matrimoni misti ed alcune minoranze da anni subiscono una dura repressione. Il Papa dialogherà con i leader di tutte le religioni. Ecco perché il viaggio di Papa Francesco a qualcosa di rivoluzionario sarà il punto d'incontro in un paese logorato dalle divisioni. Nella cattedrale di St. Mary's si sta cercando di curare ogni minimo dettaglio, una sorta di cantiere in vista di un momento storico. Io farò di tutto per vedere il Papa. Mio marito in questi giorni è in ospedale, ma noi verremo lo stesso tutti. Verrò insieme ai miei figli e ai miei genitori. È un grande segno di speranza. L'appuntamento più atteso per la piccola comunità cattolica della Birmania è la messa che il Papa celebrerà proprio in cattedrale insieme ai giovani. Padre Mariano, portavoce della chiesa birmana, ci mostra le magliette che indosseranno i ragazzi, mentre il coro, sul sagrato, prova le canzoni della messa. L'incontro con il Papa ormai è solo questione di giorni. Sono emozionatissima. Sono felice e orgogliosa perché Papa Francesco sarà un missionario di amore e di pace. Qui in Myanmar ne abbiamo davvero bisogno. Un'altra notizia che arriva dalla Santa Sede, comunicata oggi. Giovani che parteciperanno al pellegrinaggio in Vaticano i prossimi 11 e 12 agosto potranno visitare a porte chiuse la Sacra Sindone. Il telo non sarà spostato dalla sua sede nel Duomo di Torino, ha spiegato l'arcivesco Bonosiglia, e sarà occasione di meditazione e preghiera. La visita alla Sindone è fissata per il 10 di agosto, previa prenotazione. Per tutti i giovani piemontesi e della Valle d'Aosta, ma potranno partecipare anche quelli provenienti da altre regioni italiane. L'iniziativa è stata pensata in vista del Sinodo dei Vescovi, in programma a ottobre 2018. E siamo alle parole del Papa. Santa Marta Bergoglio ha parlato del pericolo legato alle colonizzazioni culturali che, se non arginate nello spirito, finiscono per perseguitare anche i credenti. Lo sentiamo. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinegano il passato e non guardano il futuro. Vivono nel momento, non nel tempo. E per questo non possono prometterci niente. E con questo atteggiamento di fare tutto uguale, tutti uguali, e cancellare le differenze, commettono, fanno il peccato brutissimo, di bestemmia contro il Dio creatore. Ogni volta che arriva una colonizzazione culturale e ideologica, si pecca contro Dio creatore, perché ci vuole cambiare la creazione, come l'ha fatta Lui. E contro questo fatto che, a lungo della storia, è accaduto tante volte soltanto c'è una medicina, la testimonianza, cioè il martirio. Noi ci salutiamo così con le parole di Papa Francesco, vi lascio in compagnia di Donatello Vaccarelli e di TGTG. Rimanete con noi, buona serata. Grazie.